Giuliano Mascali top 8 a BCQ di Catania giorno 06 maggio 2018 Giuliano ho giocato Paleozoic perché penso che sia un mazzo bello cancro e quindi ho deciso di quanto è chiuso? Quanto è chiuso? Quanto è chiuso? 4-2 ho perso da Magician e da Magician va bene ok vediamo subito cosa giocavi come run è abbastanza stable 3-2 ok perché 2 di questo scusami? 3 sono troppi e fanno brutta e 1 è buono ci basta va bene ok facciamo domani studi va bene ok le Gamisiel che è stata una carta fortissima e Turbo Paleozoic mi faceva ribattere molti terreni e toglieva cose grossi del calibro di Masterpiece che non ho mai tolto che non è mai tolto quindi proprio Vortex Dragon che ha grande levato perfetto come magia ho giocato 3-2-6 quindi come mostri solo questi? come mostri solo questi va bene come magia ho giocato 3-2-6 e 3 skateboard che penso sia una carta che debba andare bannata perché quando la risolvi al 90% di più scusa posso la rarità giusto farle vedere che non sono comuni come sopra giochi ho perso uno schiena come trappole paleo ho giocato 3 canadia perché è bucchissimo per Dino Mischius perché 3 sono troppo pesanti ma dovete scattare una Marella bastava una Danciolia anche questa è una carta equilibrata 1 e 3 tifoni che sono state delle carte risolute come 3 tifoni va bene poi come Fragget giocavo 3 rivalità una carta incredibile 3 senza anti magia come peschini invece ho 3 led design ho giocato 3 mezzo che sono successi come solenni ho giocato 3 strike un giaggio ma non pagavi troppo scusami no perché comunque li facevo soltanto per togliere cose solo ok per quanto riguarda l'extra ho giocato un buon minuto ho giocato un buon reloce lingo 4 fortissimo insarogna tutte le volte che l'ho fatto praticamente vinto decode tolter mai calato missus proxy come lingo 2 che li facevo con scheggio due mister che sono fortissimi questo mazzo per l'ottica a fare due link spider per il capo e come si sono giocato il 45 mai fatto un anomalo carico 3 toteli prestati da Carmelo Zaffanana ti ringrazio prego prego uno fa pieni a paleo zoni uno degli extra più schillati che ha mai visto un extra equilibrato le rane belle americane spiegaci le combo del mazzo ora le spieghiamo ora vogliamo sapere innanzitutto le combo come sai l'ho giocato aspetta ok qua siamo come 3 3 asci 3 asci contro trickster che non ho preso 3 ironwall contro erenly match e do evogetti 3 evenly che toglievano di tutto evenly match di tito santo tignoti 3 dimensional barrier e 3 chaos strappone che sono fortissimi e levano cose in mezzo no aspetta 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 non fa combo quindi non fa combo non fa combo quindi come gioca scusami giuseppe contarino santo chignoti giuseppe torrisi poi accanto chi hai? campione regionale che mi ha aiutato a montare questa lista salutiamo antialpino daniele stelle campione mondiale meragliello meragliello a santa ci tengo a salutare a santa bello questo bellissimo ci siamo vabbè Giuliano grazie e buon bello per la prossima saluto a camiaiello che mi ha fornito alcune carte ciao 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 ciao